Allora, a questo punto entriamo al vivo della serata con l'esperienza del dottor Massimo Piras, che è coordinatore nazionale della Ligia di FIUTI Zero, che è uno dei due ospiti e relatori della serata. Buonasera a tutti, ringrazio il sede e i consiglieri mali che hanno ritenuto importante procedere a questa presentazione perché riteniamo che quello che abbiamo depositato in Parlamento stiamo parlando di una cosa che è diventata già un atto parlamentare depositato è frutto di un percorso che ha visto 500 organizzazioni in tutta Italia mobilitarsi per portare a compimento una piccola rivoluzione, cambiare la legge 152, che è il codice ambientale che è quello che fissa la normativa per la gestione ambientale, tra cui nella parte quarta alla gestione dei rifiuti. Parliamo di questo perché noi siamo in una situazione in cui la legge attuale prevede il cosiddetto ciclo integrato, in cui parliamo di avviare raccolte differenziali, parliamo anche in questo caso di riciclo e di recupero, ma prevede anche l'ingenerimento che non è né riciclo né recupero, prevede la discaria che non è né riciclo né recupero. Questa legge è frutto di un complesso negli anni di mettere insieme tutte le tecnologie, ma senza puntare specificatamente su qualcosa di particolare. Ora noi oggi siamo nella condizione di poter fare questa scelta perché come vedete noi ci siamo in qualche modo attivati sulla base del fatto che l'Europa l'anno scorso ha preso una prima decisione, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione, quindi anche l'Italia, in cui dice una cosa che finora non era stata mai detta, dice tra le altre cose al punto 33 che al 2020 occorrerà arrivare con la chiusura di inceneritori e discariche, quindi una data a un obiettivo. Questo perché? Non perché ci sia stata una scelta unicamente di valutazione ambientale, ma la scelta è stata di valutazione soprattutto industriale, economica e in questo ciclo che noi come Paese europeo siamo in qualche modo il fanalino di coda, questo ciclo del recupero di materia in Europa è già oggi una realtà concreta e vedremo adesso anche come si sostanzia. Quindi il Parlamento non ha tentato altro che le linee per l'obiettivo dei prossimi sette anni. Ora ha evidente a tutti che se tra sette anni dobbiamo chiudere gli inceneritori, non possiamo autorizzare oggi nuovi inceneritori. Ricordo che l'inceneritore è un impianto che costa oltre i 300 milioni di euro a necessità di 15 o 20 anni di ammortamento industriale, quindi se tra sette anni li dobbiamo chiudere evidentemente dobbiamo avviare una moratoria sulle autorizzazioni, avviare quindi una riconversione industriale. Questo è il momento in cui possiamo in qualche modo riagganciare l'Italia all'Europa. Da questo punto di vista diciamo che la risoluzione è chiarissima, come vedete, e in questo momento stiamo parlando anche dell'andare a normare questa proposta di rugge su 5 vinci di cardine. La sostenibilità ambientale, perché la sostenibilità è sicuramente il criterio guida che oggi guida l'Europa su queste scelte. Noi non abbiamo la capacità di avere le materie prime che ovviamente importiamo dall'estero, petrolio, legnano, per quello che riguarda la produzione dei beni di consumo, quindi dobbiamo fare i conti anche con le nostre capacità e col fatto che quello che andiamo in qualche modo a normare siano impianti che diano una tutela dal punto di vista sia dell'ambiente che della salute, ma soprattutto possano oggi avviare un ciclo economico e occupazionale che è stato misurato già da tempo. Questa piccola rivoluzione potrà portare a regime la riazione di circa 500.000 nuovi posti di lavoro e non è una cifra messa lì così, è stata una cifra misurata dal fatto che questa legge prevede ovviamente alcune norme specifiche e progetti. Per andare un po' al contenuto della legge noi diciamo, saltiamo un attimo alcune slide, nel senso che vi voglio far vedere un attimo anche quello che è il discorso della materia riciclata in Europa, dicevamo prima, poi arriviamo agli articoli di legge. Questo è oggi quello che rappresenta la gestione delle materie riciclate in Europa, quindi stiamo parlando di cose importanti e dal punto di vista delle azioni da fare è stato emesso un documento da parte del Consiglio europeo che dice che oggi i fattori chiari per andare verso questa economia sostenibile sono assolutamente la migliore attuazione normativa per esempio, cioè le direttive europee che vengono emesse in Italia normalmente vengono ricevute con molti anni di ritardo e spesso non del tutto. Il passaggio dalla discarica riciclata in Europa, le pressioni normative e il supporto legislativo e il valore economico del riciclaggio. Questi sono i principi cardine che stimolano oggi al dire non dobbiamo più distruggere quello che può diventare la materia di ripartenza della produzione di nuovi beni e prodotti e l'allungamento della vita di questi materiali. A fronte di questo ci abbiamo anche dei fattori limitativi importanti, tra cui la debolazione della legislazione e la gestione illegale dei rifiuti, su questo in Italia abbiamo purtroppo un capitolo molto importante da chiudere che riguarda i rifiuti speciali, i rifiuti tossici e voi sapete che questo oggi è una cosa che si sta conciendo, è una ventola che si sta conciendo a scoperchiare, ma è una cosa che ci impegnerà per moltissimi anni. La crisi economica è colpita le prospettive di mercato, questo è un fattore ovviamente limitante e importante e quindi dobbiamo prendere delle scelte da questo punto di vista. Tenete conto che come vedete oggi in Europa, già al 2008, la prima industria, quella che aveva un maggior tasso di sviluppo annuo, pari al 16,37%, è l'industria delle fonti rinnovabili, la prima. La seconda è l'industria del riciclo, col 10,57% annuo di incremento occupazionale ed economico, cioè già oggi in Europa il riciclo è il secondo motore economico di sviluppo e di occupazione, in Italia ancora no. Per questo dobbiamo recuperare rapidamente, riallinearci con questo perché evidentemente è chiaro che il lavoro è esattamente l'obiettivo di tutti. Da questo punto di vista passiamo un attimo all'articolata, avendo fatto questa premessa di quello che succede in Europa e contiamo di in qualche modo riflettere in Italia, noi abbiamo in qualche modo messo a norma quella che è la strategia di più di zero. La strategia di più di zero si basa su un principio, su dieci passi che poi illustrerà l'Associaci, che credo che dovrebbe arrivare in tempo per illustrarli, sia dal punto di vista dell'illustazione generale che dell'esperienza che è stata fatta a Cavalloli. Però parliamo innanzitutto di avviare politiche di riduzione, riduzione significa ridurre la quantità di rifiuti e gli scarti che noi produciamo e portarla sino al 20% al 2020. Parliamo dell'obiettivo sempre al 2020, quindi parliamo di un periodo di transizione che ci vedrà impegnati sul conseguimento di questi obiettivi. Il riutilizzo, che è una cosa che spesso non è neanche organizzata in Italia, centri di riuso e riparazione, significa sottrarre tante materie e beni e prodotti soprattutto, mobili, elettrodomestici, riparabili, che possono essere rimessi in circolo con semplici riparazioni o assolutamente rimessi in circolo anche così come sono, se non vengono portati in discarica. Il riciclaggio, che è ovviamente la fase che noi conosciamo meglio, che è la raccolta differenziata, ma che alla raccolta differenziata deve corrispondere il fatto che quello che raccogliamo lo dobbiamo raccogliere in una maniera tale che sia totalmente riciclabile, perché se raccogliamo i rifiuti indifferenziati, quello non possiamo che portarlo in discarica e recuperare solo poche materie contaminate. Quindi il recupero di materia diventa un fattore principale. Questa legge dice chiaramente che il recupero di energia, quindi la combustione dei rifiuti è assolutamente una pratica da portare ad azzeramento, perché recuperare la materia è molto più importante della poca energia che si può recuperare bruciando la materia, perché noi abbiamo necessità da questo punto di vista di conservare la materia. Come lo facciamo? Entriamo un po' nel piove del discorso. La legge prevede innanzitutto una cosa abbastanza semplice ma non scontata. Entro due anni in tutta Italia si dovrà passare obbligatoriamente al sistema porta a porta. È ormai patrimonio di tutti che il sistema di raccolta stradale con i cassonetti non va oltre il 30-35% di differenziazione, ha necessità di una discarica, perché ovviamente la maggior parte di quello che si raccoglie poi va discaricato, ha necessità di sistemi di selezione che oggi sono per legge diventati obbligatori, perché bisogna comunque tirar fuori la parte combustibile e l'organico, perché sennò il talquale produce dei danni enormi diventando materiale che va a contaminare le saldendriche. Quindi l'introduzione del porta a porta per legge entro due anni, quindi non da domani mattina, quindi con la possibilità di avere una finestra di attivazione è il principio cardine per avere dei materiali puliti e riciclabili. Ora calcolate che il porta a porta si può fare in diversi modi. in Germania usano un sistema che si chiama duale, un sistema duale che ha addirittura due filiere di raccolta, una filiera pubblica e una filiera private. Noi qui oggi ci basiamo sul fatto che sulla base anche del principio referendario chiediamo che le aziende che si occupano della raccolta siano prevalentemente aziende pubbliche, come credo che sia già in buona parte del territorio. Ora questo comporta il fatto che avendo dei materiali che possono essere raccolti in modo pulito, possono essere riciclati. Dobbiamo agire anche sulle leve economiche perché il materiale riciclato deve essere favorito dal punto di vista fiscale, quindi con l'esenzione dall'IVA o con un aliquota molto bassa, perché diventa il punto di partenza della riproduzione di nuovi materiali e beni. Quindi sull'articolo 3 abbiamo messo anche questo elemento e sull'articolo 4 quello che accennavo prima, la moratoria all'incenerimento. Dobbiamo subito fermare le nuove autorizzazioni inceneritori perché abbiamo la possibilità oggi di andare col porta a porta verso l'industria del recupero di materia e quindi non abbiamo più necessità di distruggere questi materiali. Questo possiamo farlo se arriviamo anche all'obiettivo di eliminare quello che sostiene questi impiantisti che è essenzialmente l'incentivazione a carico della collettività. Prima si chiamavano CIP6, certificati verdi, oggi hanno assunto una nuova edizione ma di fatto quest'industria è incentivata a, sebbene sappiamo che è un'industria che non produce, come dire, una ricchezza, distrugge una ricchezza e crea un elemento che sono ovviamente i prodotti che escono dall'incenerimento, che sono prodotti anche pericolosi oltre quella che è la contaminazione ambientale da polveri e da particelle tossiche. Quindi l'eliminazione dell'incentivazione è uno dei fattori cardine e ovviamente anche il fare in modo che i comuni possono essere sganciati dai contratti che hanno obbligatoriamente firmato, che prendono delle penali. Questo significa in qualche modo riuscire a avviare un patto di riconversione che entro tre anni darà modo all'industria che oggi esercita queste attività di passare da quello che è questo tipo di tecnologia a una tecnologia del recupero. Il recupero si fa fondamentalmente sia attraverso la selezione, il recupero e il riciclo del secco, sia attraverso il trattamento dell'organico che vedremo tra poco. Una cosa che ci interessa in particolare come dicevo prima, i rifiuti speciali. Oggi noi abbiamo una situazione particolare per cui siamo nella situazione in cui questi rifiuti, e parliamo anche dei rifiuti trattati in differenziati in discarica, che sono rifiuti speciali, cosiddetto CDR, quello che viene portato in incenerimento, possono essere in qualche modo portati in tutta Italia, quindi non c'è una normativa di restrizione regionale. Questo ha comportato il fatto che questi sono riscati anche dei meccanismi criminali di gestione illegale. Questa norma che noi mettiamo per evitare questo fenomeno è la regionalizzazione dei rifiuti speciali, quindi l'obbligatorietà entro due anni che i rifiuti speciali vengono trattati nell'ambito regionale e quindi vengono anche realizzati gli impianti a servizio e quindi anche ulteriore occupazione. L'industria dell'ecomafia vedete oggi, rappresenta oggi un canale importantissimo perché il rifiuto speciale ricordiamo che circa 8 volte quello che è il rifiuto urbano come importanza, come capacità e genera dei flussi economici particolarmente preoccupanti e sta portando questi materiali fuori dall'Europa, soprattutto come vedete in Cina. La Cina è quella che sta assorbendo l'industria, cioè i materiali sia legali che illegali perché sta finanziando la propria industria attraverso vari circoli e vari canali. Quindi noi quello che stiamo mettendo in qualche modo in crisi e in discussione è il sistema attuale attraverso il fatto che riteniamo che lo smaltimento deve essere tassato e siccome l'incenerimento come oggi viene radicato è una pratica di smaltimento come la discarica perché si parla di recupero di energia ma deve esserci almeno per legge un livello minimo del 65% di recupero energetico per essere classificato come recupero, invece attualmente parliamo di impianti che sono regalmente di smaltimento. Questa tassazione riteniamo che oggi la famosa ecotassa viene destinata a vari usi, solo una piccola parte al momento che vediamo che sia il 25-30% venga rinvestito dalle regioni nel sistema dei rifiuti, viene usato per fare moltissime cose tra cui asfaltare strade, pagare consulenze, ma l'ecotassa noi riteniamo che invece debba essere obbligatoriamente vincolata alla spesa rispetto al discorso della riconversione impiantistica, rispetto al finanziamento del passaggio dal porta a porta perché i comuni devono in qualche modo essere anche incentivati nel passaggio dai sistemi tradizionali del sistema porta a porta e alla puntuale e quindi c'è bisogno anche di primiari sia i comuni virtuosi che i cittadini che fanno ovviamente che si impegnano su queste pratiche. Passiamo rapidamente a questo articolo, l'articolo 13 che è un articolo che potrebbe essere interessante anche nella vostra situazione, abbiamo stabilito un principio di incompatibilità, il gestore che fa la raccolta dei rifiuti non può essere lo stesso che gestisce la riscarica dei rifiuti, specialmente se questo soggetto è un soggetto privato. Noi riteniamo che in qualche modo in Italia quello che manca da sempre è quello che si chiama concorrenza, quello che si chiama sistema di mercato, nel momento in cui si formano dei monopoli pubblici o privati si crea comunque delle distorsioni. Ora dal momento che la raccolta porta a porta deve essere mirata al recupero che è un'industria molto particolare, esattamente opposta a quello che è lo smaltimento, il disgiungere questa cosa che è una cosa già in Piemonte attuata, quindi non è un principio fantastico, questo fa in modo di creare effettivamente una compitività su quello che è la filiera che ha più risultato concreto dal punto di vista economico per i cittadini e lo smaltimento, voi sapete che deve essere una fase residuale, quindi residuale significa che deve andare a morire, deve andare ad azzerarsi e quindi dobbiamo puntare sull'industria del riciclo del recupero. Ora evidentemente nel momento in cui noi facciamo il porta a porta abbiamo l'obbligo del trattamento sia delle frazioni secche che delle frazioni umide, su questo noi abbiamo fatto un ragionamento molto chiaro che significa l'ammissibilità dell'impiantistica che noi riteniamo che serva oggi per andare in qualche modo a gestire questa fase di transizione. Noi avremo ancora in alcune regioni il rifiuto indifferenziato dal quale che va selezionato, quindi abbiamo bisogno degli impianti, i cosiddetti trattamento meccanico-biologico, il TMB, che servirà indifferenziato ma che possono essere oggi, nella proposta che noi facciamo, impianti che vanno a recuperare la materia, non più a produrre CTR, quindi modificati a recupero di materia anche da indifferenziato e impianti soprattutto che possono essere modulari e riciclabili un domani perché le linee possono gestire l'indifferenziato ma domani anche il differenziato o contemporaneamente, stiamo parlando di impianti di selezione meccanica e stiamo parlando di impianti di compostaggio erobbico per la frazione organica. Ora, la differenza ovviamente dell'indifferenziato è quella che con l'organico da indifferenziato non ci possiamo fare altro che di portare le indiscariche perché non è un rifiuto riciclabile. Mentre noi puntiamo sulla produzione sia del secco riciclato con piccoli impianti, parliamo di impianti da 36.000 tonnellate perché stiamo disegnando degli ambiti di gestione ottimale intorno ai 200.000 abitanti, che sono ottimali dal punto di vista anche della possibilità di creare più impianti decentrati e non grandi impianti e soprattutto il trattamento dell'organico attraverso la doppia modalità sia aerobica che anaerobica. Specifichiamo però su questo che sull'aerobico ovviamente sappiamo già tutti come funziona. La slide si riferisce al secco, scusate, passo indietro. Sulla gestione del secco riciclato ovviamente abbiamo la necessità dei centri di raccolta e questi sono gli impianti di selezione meccanica con cui si fanno le balle di materiali che vengono poi rivendute. Il CONAI è un sistema che oggi già funziona ma riteniamo che su questo dobbiamo fare tutta una serie di passaggi e anche successivamente vedremo per rimettere in linea il CONAI con gli obiettivi che noi riteniamo necessari. Questo produce anche la possibilità che oltre a recuperare vetro, metallo, carta e plastica con le plastiche residue possiamo anche andare a costruire questi nuovi materiali di recupero col granulato plastico di scatto. Ci sono già voi, sapete, esperienze industriali in Italia che dicono che questo materiale residuo che oggi è l'indifferenziato plastico può diventare la base per produrre questi oggetti, oggetti per l'edilizia e oggetti per l'arredo stradale. Quindi stiamo parlando di andare a un recupero quasi totale. Sul discorso del trattamento della frazione organica facciamo una distinzione perché dobbiamo fare anche una piccola informazione. Gli impianti di comportaggio aerobico credo li conosciamo tutti ma non tutti sappiamo che in questi impianti il 50, oltre il 50% del carbonio lo disperdono in aria sotto forma di CO2, cioè hanno delle emissioni anche in questi impianti che sembrano così naturali, così in qualche modo semplici e la tecnologia è quella, si fa fermentare in presenza d'ossigeno, c'è l'ossidazione e si produce CO2 che va in aria. Sulla digestione aerobica noi invece abbiamo un diverso problema. Cioè questo impianto praticamente è un impianto sigillato, quindi non disperde niente in aria e produce in assenza di ossigeno non più anidride carbonica ma metano, biogas. Ora qual è la questione del biogas? Perché c'è una questione importante che sono le centrali a biomassa che fanno il biogas per bruciarlo per fare energia elettrica. Noi riteniamo che quello sia un fenomeno che vada anche contrastato se riguarda l'utilizzo di superfici agricole appositamente coltivate, perché per l'energia ci sono dei sistemi molto più efficienti. Ma i rifiuti vanno trattati, il rifiuto ha una necessità il trattarlo. Allora noi abbiamo proposto da questo punto di vista, rispetto al discorso della digestione aerobica, quello che noi oggi contestiamo è che il biogas viene bruciato per pura energia anche nel momento in cui si trattano rifiuti e la produzione di energia riguarda solo il 30% del contenuto di quel biogas, perché il 70% è calore che viene disperso in aria, quindi fondamentalmente ha una diseconomia dal punto di vista industriale, perché recuperare solo il 30% del contenuto energetico di quella gas è secondo noi sbagliato se noi riusciamo invece a dimostrare, e lo dimostriamo, accidenti, è tornata, ecco, lo dimostriamo che quel biogas si può depurare a biomedano e metterlo in rete e sostituire il medano che noi importiamo dalla Siberia e dalla Libia e questo è un processo che si fa a freddo, senza emissioni e soprattutto senza incentivazione speculativa. Questo diventa un meccanismo importante perché? Non perché noi vogliamo a tutti i costi utilizzare alcune tecnologie, perché questa è una legge quadra e quindi deve prevedere tutte le tecnologie. Ma per fare il compostaggio aerobico noi abbiamo bisogno di due cose, della frazione organica da trattare per il 60%, ma poi ci serve la frazione verde, cioè la potatura o il cippato lignano che serve da mescolare per fare quella reazione aerobica. Ecco, vi sottolineo il fatto che dai dati dell'ISPRA risulta che in metà Italia non c'è questa frazione verde. Guardate la situazione dal Lazio in giù, Campania, in Basilicata, la frazione verde è questa più chiara in alto. Dal nord in su, anche nelle Marche c'è questo bilanciamento tra organica e frazione verde, quindi si può scegliere di fare una tecnologia o l'altra. In metà Italia questa cosa non c'è, in Campania addirittura come vedete non c'è quasi il verde, perché viene abbonizzato, cioè la potatura si brucia per consuetudine antica e non si recupera. Questo è un problema enorme perché significa che il compostaggio non si può fare e l'organico va a finire in discarica. Quindi evidentemente abbiamo bisogno dell'integrazione tra tutte e tutte le tecnologie e le regole che abbiamo messo esattamente sono queste. Eliminare l'incentivazione, divieto di combustione del biogas, immissione in rete o commercializzazione del biometano per l'autotrazione. Ci sono già macchine che vanno a biometano in Italia, vengono già vendute, la app della Volkswagen è una di queste. La possibilità quindi di trattare quello organico pulito per fare un recupero di materia finale senza nessun tipo di combustione. È una cosa che avviene già in Svizzera, in Francia, queste sono le colonnine che vendono il biogas per le automobili, per i camion, per i burman. Ecco, come vedete siamo un pochino indietro da questo punto di vista. Per risolvere questo problema noi abbiamo chiesto un incontro al Ministro Orlando perché quello che manca è solo un decreto ministeriale che dice quali sono le caratteristiche per l'immissione in rete e per la commercializzazione. Una cosa ancora non è stata fatta. Secondo passaggio è la riffa puntuale. Ne parlavo già all'assessore provinciale. La riffa puntuale è assolutamente, secondo noi, indispensabile nella filiera di Fiori Zero perché nel momento in cui facciamo il porta a porta noi dobbiamo pregnare chi differenzia di più e dobbiamo non pagare a metro quadrato come si paga adesso o al numero d'abitanti, ma per la capacità individuale, puntuale di ogni famiglia, di ogni nucleo, di cimentarsi con questa possibilità. Come vedete in Europa è praticamente adottata quasi dappertutto. Anche su questo noi abbiamo ovviamente i primi comuni che l'hanno adottata, non è ancora un obbligo. Anzi, attualmente credo che la maggior parte della stragrande, la maggior parte dei comuni, è ancora sotto il regime della Tarzu o della Dari. Quindi questo qui diventa anche questo un obbligo di legge e entro tre anni si passa alla tariffa puntuale. La notizia di ieri è che anche il Ministro Orlando nella nuova Tax Service ha inserito la tariffa puntuale come un elemento di opzione possibile, quindi non bisogna necessariamente passare al regime della ex Tarzu. Sulla verità controlla ne parlerà poi meglio Alessio. Gli ambiti di raccolta ottimale ne abbiamo già parlato, parliamo di piccoli ambiti, 150-200 mila abitanti in cui si fa trattamento, raccolta in cui l'industria e l'occupazione rimane sul posto. Quello che mi vorrei dilongare un pochino è spiegarvi un attimo quello che succede nel CONAI. Ora noi abbiamo inserito un articolo specifico, che è l'articolo 18, perché il CONAI oggi è un consorzio nazionale di imballaggi, è quello che per legge non ha fini di lucro, ma è composto dagli industriali che riproducono o utilizzano gli imballaggi, quindi bottiglie, lattine, eccetera. Sono loro che mettono i soldi per legge per recuperare questi materiali. Ora noi abbiamo una situazione in cui il CONAI oggi in Italia dedica appena il 30% del budget al reinvestimento nel discorso raccolte e recupero. Evidentemente questo non può essere il criterio, perché vorremmo capire come mai oggi in Italia è all'ultimo posto nella classifica europea. Guardate il livello del contributo europeo che si paga in Germania, questo in verde, e questo è quello che si paga in Italia che è rosso. Cioè noi paghiamo oggi un livello di contribuzione, cioè loro pagano, loro mettono dei soldi, ma ne stanno mettendo sempre meno perché stanno abbassando questo contributo, se lo autoriduggono e non è più sufficiente questo contributo a dare i soldi ai comuni per il ristoro dei costi di raccolta e di trasporto. Perché i comuni sapete che hanno questi contributi dal CONAI che servono a rientrare dei costi vivi, così come i riciclatori e le piattaforme convenzionali sono pagate dal sistema CONAI. Se il sistema CONAI abbassa i costi, abbassa anche i rendimenti e quello che paga questo sistema. Il sistema sta entrando adesso in crisi, perché questi costi non sono più sufficienti. Allora noi abbiamo saperito una regola che dice che il contributo ambientale del CONAI deve essere agganciato alla media europea, non alla Germania, che come vedete sta 20 volte sopra, alla media europea, perché non si chiamisce perché la plasticalità in Italia valga 20 volte meno che in Germania, visto che il costo produttivo e il manufatturiero della plastica è sicuramente lo stesso, se non maggiore da noi che abbiamo dei costi energetici superiori alla Germania. Quindi è assolutamente una questione di politiche industriali che vanno in qualche modo a ostacolare il riciclo. Quindi siccome il CONAI è un consorzio istituito per legge, noi diciamo che debba rinvestire il 70% delle risorse raccolte nel riciclo e il 20% della ricerca sui nuovi materiali con cui eliminare quello che oggi non è riciclabile, perché noi continuiamo a produrre imballaggi e prodotti che non sono riciclabili. Quindi questi dati sono dati che lasciano in qualche modo anche il segno e qui vedete esattamente quello di cui vi parlo. Una bottiglia di PET da 1,5 litri, in Finlandia viene pagata 76 centesimi, in Italia 0,3 centesimi di Euro, 0,3. In Germania stiamo parlando di 5 centesimi, diciamo che potrebbe essere un valore medio rispetto alla Finlandia, 5 centesimi contro 0,3 centesimi, stiamo parlando di un altro mondo. Questi sono i dati reali e quindi noi dobbiamo fare in modo di rialinearci con l'Europa. Ecco, questi sono infatti i dati su quello che oggi è il confronto tra la gestione conai e le gestioni private, perché stanno avviandosi anche quei distretti, sono un sistema che possono prefigurare dei piccoli conai locali e quindi la possibilità di non aderire necessariamente a questo nel momento in cui l'ambito territoriale ha una modalità omogenea di raccolta, ha la propria impiantistica, si può gestire il recupero e il riciclo dei materiali con un'organizzazione. Chiarito questo punto, una cosa importante che abbiamo inserito è il monitoraggio ambientale, c'è due cose importanti, l'introduzione del reato di danno ambientale che tuttora non era stato normato dal punto di vista dell'obbligo di chi inquina non solo di bonificare, ma di vero una responsabilità civile, penale e risarcitoria. Questo si lega con il discorso dell'avviare un controllo e un monitoraggio pubblico della gestione del territorio attraverso l'istituzione dei registri dei tumori, laddove ovviamente ci siano situazioni che inducono ad attivare questa pratica perché finalmente si possa mettere in funzione la fonte con il danno, tuttora viene contestato il fatto che il danno ambientale e quindi le malattie non possano essere messe in relazione diretta con la fonte di emissione. Con il registro di tumori si arriva a un processo statistico importante che va in qualche modo poi a dare dei risultati che diventano scientificamente anche inoppugnabili. Inoltre abbiamo inserito un articolo importante sulla gestione dell'amianto. L'amianto, sapete, è una piaga a livello nazionale, tuttora noi portiamo in discarica l'amianto non sapendo che l'amianto in discarica non è assolutamente sicuro perché l'amianto ha la capacità che ha di arrivare fino alle falde idriche per infiltrazione e ritorna in circolo. Le fibre dell'amianto sono una cosa altamente pericolosa, non credo di scendere la parola su questo. Oggi l'Europa ha emesso una risoluzione anche su questo che abbiamo raccolto in cui dice fermiamo una moratoria sulle discariche d'amianto, il miglior sistema è l'inertizzazione, cioè in qualche modo mettere le fibre attraverso un processo di vetrificazione in cui vengono incluse e vengono sigillate. Questa è una procedura che deve essere standardizzata, però intanto fermiamo il discorso delle discariche o delle cave perché l'amianto non è assolutamente sicuro in quel tipo di situazione. L'aspetto della salute quindi è un aspetto che ci interessa particolarmente e oltre all'aspetto della salute ci interessa ovviamente la prevenzione, come dicevo prima, quindi un piano nazionale che vada a diminuire l'uso e getta, a normare la prevenzione e la riduzione dei rifiuti a partire dalle scuole, dagli uffici pubblici, dall'acquisto di carta riciclata e materiali riciclati e ultima cosa ma non ultima il discorso della partecipazione dei cittadini. La partecipazione dei cittadini è in qualche modo un fattore che oggi è secondario perché i cittadini arrivano a conoscere i processi decisionali quando sono completati e quando sono completati possiamo solo accedere ai ricorsi. Ecco, quello che dice una convenzione di Arus che ha approvata già tra tempo ma mai applicata è che i cittadini debbano partecipare fin dall'inizio alla formazione del processo decisionale rispetto agli impianti, rispetto alla gestione dei rifiuti e che possono avere l'accesso totale ai dati e dare il loro parere in tutte le fasi del processo, non semplicemente alla fine, perché alla fine diventa anche in qualche modo difficile e economicamente insostenibile. Noi vogliamo partecipare direttamente al processo in fase di progettazione. Ecco, io chiudo qui la parola a Alessio Ciacci, spero di non essere stato troppo lungo, però la materia è notevolmente complessa. Grazie.